e bella a tutti ragazzi e ragazze sono Isidoro che vengono a te la regal per un nuovissimo video allora ragazzi adesso è un video un po' particolare so che di solito non escono video di minecraft durante la settimana ma solo il venerdì ma questo è un caso un po' particolare come potete vedere sto a faccia a terra c'è uno zombie che mi vuole menare quindi io spero che chiunque sia in questo mondo attualmente mi venga a salvare perché questo è il tour questo è il tour del mondo di my brothers quindi di mio fratello e i miei due fratelli posso alzare la testa? io sto verso il mare allora ciao verso dove mi devo girare? vieni qua vieni qua dove? vieni qua devo camminare accucciato testa bassa devi venire vicino a me aspetta testa uso l'albero testa ok va ok vai alza la testa di qua devi mettere quando sto io? ok alza la testa ok allora io alzo la testa ok 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 allora il centro all'interno c'è una cosa che sta a specchio che è la scelta è mia il mio questo è roba ah qui c'è l'armatura Sì, l'armatura non c'è. No, la devo prendere un pezzo a una volta. Ho premuto sopra il pezzo, si è distrutta. Ma dai. Vabbè, dopo prendiamo l'armatura e tutto. Quando stanno entrando è successo di poco. Vabbè, chi se ne frega, andiamo ad esplorare. Allora, qui abbiamo la tavola da le... Vabbè, in casa può fare quello che va. Ma raga, ma che sono sti rumori? No, boh. Ma come no, vabbè? Eh, ci sono i fantasmi, c'è Ghostbusters. Bellissimo la schivania. Vediamo che c'è scritto. Come si scrive? Oh, è la mia. Devi mettere sopra. Devi mettere da volte. E sta scritto. Aspetta, prendi sopra. Non mi fa scrivere. Oh, devi mettere. Eh, guarda, io sto premendo. Vedi che non mi fa scrivere. Eh, allora vedi a volte tutto. Cosa ti piace? Aspetta. Volevo scrivere Giovanni Puzzo. Hai capito questa cos'è? La cassa? È una Nintendo Switch. Mangia assomiglia per niente. Sì, la fa parola. L'ho aperto per sbaglio. Allora, vieni. Allora, scendi. Questa la cucina. Ok, saliamo sopra. Mi impadronisco di questo letto. È meo. Ma quando vai a dormire, no? Ma non tu zicco la testa sotto. No, però non ti lavi. Che schifo. Dai. Dai. Allora, prendi qui questa la mannata. Ti vanno, no, lo voglio. Quanto su belli, così. Non sono rotta. Guarda, aspetta, guarda. Guarda. No, vabbè, non male. Ok, vabbè, no, lo faccio io, che ho messo in tre ore. Però, guarda, 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 guarda. Ma per quanto? Aspetta. Vabbè, lascia la firma, però, te. Non mi dispi. Non ando sopra a mettere la firma. Ok. Oh. Allora, se metti c'è la nipuzia, io ti ammazzo. Oh, questo è da un mio. Già, è mio. Non so se hai visto, di qua, stanno a porti. Andiamo così. Ma, no. Se non lo vuoi, sai, che se non lo faccio male, non lo faccio male. Ma, mi dà fastidio camminare sul suo matriaco che fa clink, 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 clink. Allora, questo è il rumore. Eh, fa il rumore, troppo, fermo, fermo, fermo. Questa è il rumore. Fermo. Giocchiamo a Pingo Ponte. Ma quale Pingo? Eh, con la spada, ok. Non c'è la spada. Ma c'è. Questa è l'arcalena? Ma ti si è fatto una skin? No. Ma c'è una faccia strana. Eh, no, l'ho messo la maschera. Ah, c'è la maschera. Guarda. Sei brutissimo. Grazie. Mamma, non gli occhi, eh. Andiamo ad esplorare altra roba. No, prendi le bar... Questa è la giaccia. Mi prendo, Garibaldi. Eh, no! Ma non è casella. Lo so. Ma dai. Eh, da qua non è... Non ce l'ho io, Gucci. Ma qua dove? Qua, qua. Stai forte per andare da qui. Ok. Saluta a me, saluta a me. No, guido io. Guido io che te non sei guidata. Dai, prendi l'altra. Dai, l'altra. Mi sa salto. No, guida. No, passo qui, dai. Salgo qui, guido io. Eh, appunto, scendi che la guido io, dai. Scendi la guido io e tu vieni a fianco. Allora, questo... Cri, scendi che la guido io e tu vieni a fianco. Non c'è anche. Dai, hai rotto la barca. Ma dai. Dai. Lo posti. Hai rotto la barca. E' rotto la barca. Grazie. Ci metti la barca. Eh, delfino! Ecco la barca. Vengo a piedi perché c'è il delfino. Allora, questa è la zona enchanting tables. Questa è la zona del portale. Ui, quanto è bello. Delfino, no, non morire. Ma... E' fatta bene. Ma secondo me potevi fare qualche altro tipologia di... Ehm... C'è un problema. Vabbè, aspetta. Che storia? Se ho sbagliato, sono passato vicino al portale del netter. Ma fa schifo, questo netter. Ma... Io non sto capendo. Cioè, io non tocco niente. Mi porta avanti e indietro. Arrivo, arrivo, arrivo. Voglio provare ad allenarmi con l'arco e con la balestra. Ma almeno l'arco c'ha triplo colpo. Quale? Multicolpo. La balestra. E' pure l'arco. Io non ce l'ho. L'arco c'ha incivita. E dammi la balestra. Voglio provare la balestra. Dammi impatto e potenza. Mi dia la balestra. Voglio provare la balestra. Con le bocce. Ehm... Sai com'è? Ho detto la balestra. Ok. Dammi le frecce brutte. Ma se vuoi fare una cosa buona? Non mi ha dato la tua di incendere la... La cosa qua. Ma... 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 Ma non faccio il livello primo. Ma no. Ma non faccio il livello primo. Ah, ma in totale se faccio il centro si accende. Sì, guarda. Guarda. Ma sì, guarda. Ma sì, ma la balestra fa schifo perché mira 35 ore dopo. Sì, lo sa fa. Andiamo. Eh, vabbè. Dammi la mia balestra. Fa schifo, do. Dammi la mia balestra. Oh, picca. Ok, andiamo. Andiamo. Ma vuoi... Tieniti la balestra. Uh, guarda cosa ho visto. La balestra. La balestra. No, devo farlo. Cosa? Vado, 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 vado. No, sì, no, 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 no. Devo toccarlo. No, 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 no. Devo toccarlo. Bambino, piccolo. Almeno guarda, abbiamo un altro video da fare. Alla ricerca dell'uovo che mio fratello mi ha... Dai, è un video bellissimo. Cerchiamo l'uovo che mio fratello mi ha perso. No, no. Sì. No. Deee. Eh? No, adesso lo troverai in giro per il mondo. No, 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 no. Il del vino. No, sta morendo. Muori del vino. Sono tre. No, no, no. Vai, via, vai giù. Oh, easy. No, la violenza sui delfini. È un amibbo. Ok? Sono ucciso. No. Allora, per me è la zona maschile. Sì. Funziona, funziona. Sì. 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 Questa si chiama dipendenza topica. Dai, easy. Dici che sono usciti. Ti posta tre teste del drama. Sì. Sì. Adesso vuol dire che posso fare. Bambino. No, ce l'ho io. Sì. Ne ho trovato un altro. Questo lo vuole. Adesso lo diciamo. No, no, no. Ti ho venuto. Ragazzi, questa si chiama dipendenza. Non giocate a queste cose che fanno venire dipendenza. Ludo topica. Come potete vedere, io nel giro di 35 secondi ho preso la dipendenza. Non mi posso più fermare. Ho trovato già sette cose dentro. Guarda, guarda, aspetta. Ora vado da sotto. Guarda. Guarda da mio schermo. C'era. C'era un stacco. Non so. Non so. Poi c'è la testa piccola. Come la testa piccola? E la machine piccola. La machine piccola. Arriva a giocare anche a quella. Come stu? Allora. Questa si chiama dipendenza. Non lo fate mai nella vita, ragazzi. È una brutta cosa. Perché stavo droppando la roba? No. Aspetti, aspetti, eh. Dipendenza, se! Il trago è rilassato. Vuoi vedere il dipendenza? Il dipendenza. Se! Stanno sponendo gatti. Guarda, la slot machine, oppure perché... Non è la slot machine. Ma sta cosa cosa troppa? No, positiva. Ma non sta troppando niente. Sto premendo 35 minuti e non mi troppa niente. Luca, cosa faccia di più? Devi premere quella di là. La leva di là. Quale leva? La leva? Questa leva? Sì, la sto premendo 35 minuti. Non mi dire che è vuota. No, era piena. Che non sta capendo il basso. Eh, era piena. Hai detto, beh... Ma è piena! Eh, sì, io so premere, ma non esce niente. Non c'è da dietro. Eh! Aspetti. Cioè, quindi tu mi vuoi far capire che se faccio... Sì, è stato sponendo. Dovresti! Ma finisci! No, è bellissimo! Esci da dietro! Adesso, ragazzi, andiamo a combinare qualche altro. Ma c'è finito qui? No. I polli! No, no, non libero! Che cos'è sto cosa? Una farm. Di villager? Sì, o la nostra vita. Al giorno? Sì. Di giorno? Allora, aspetta, non puoi metterlo. No! Dovresti metterlo chiuso da un altro. Vabbè, andiamo avanti. Queste sono le farm. Queste sono le farm. Cos'è sto cosa, di preciso? Cosa? Sono le farm. Le farm? Di polli e di mucche. Queste sono le... Queste sono i polli? Eeeh, vabbè, è una cosa che non posso dire. E c'è un casino lì che non ci si può avvicinare. Infatti, prima quando ne stavo... È un muccaio questa cosa. Eeeh, vabbè. No, no, Sam. Aspetta, aspetta. Se tiro le leve che succede? No, no, non libero! Uccido le leve? No! Previsto, aspetta. E' un po' di... Gli ho provato... Eeeh! C'è tutto dove? Se aiutatemi! Qua le mucche stanno saltando! Aspetta, aspetta. Aspetta! Ma fammi capire come dovrebbe funzionare tutto questo. Ci dai da un po' di... Aspetta, ma quindi se io tolgo adesso la leva che succede? Niente. E se l'attivo? Niente. Aspetta, aspetta che ci penso io. Dove fare il cibo che ho fatto? Penso io, ci penso a fare... Ci penso io a fare il cibo! Ma lo può farà, aspetta. Ah, ma sì! No, io, Aline, sì! Sì, può farà. Sì, muoio, lo sé! Posso sembrare una brutta persona, ma in realtà non lo so, cioè... Non scende niente. Ma come? Non scende niente. Non scende cibo. Sì, scende, scende. Ma lo può fare l'aspetta? No, ce l'ho la spada! Levate, faccio io. No, dammi la spada, voglio farlo io. Dammi la spada, voglio farlo io. Ragazzi, siamo... Non siamo... Sì, il po' la mucca è cotta! Sì, me mangia la mucca. Levate, levati, levati. E adesso per fargli capire che sono morte, gli butto la carne delle loro commadre addosso. Le sono morte tutte. Delle loro madri addosso, gli butto, è fatto bene. Perché questi si meritavano. Ma perché stanno tanto costruendo questi cazzi? Non sono cazzi. Questi fanno casino? Non sono cazzi, ma non sono die patti. Sì, fanno casino. Ma non... Signore, devo far morire i polli. Come muoiono? No, no, no. Ma se così non muoiono, perché non c'è la lava. Sì. Ma questo è davanti o la lava? Non so, non lo sapevo di farlo. E me ne sono accorto che non lo sapevi farlo. Perché i polli dovevano stare sopra. Dove lo sapevo? Ma fa almeno pollo. No, lo stanno parlando, guarda! Ma dove stai guardati? Alla fine. Nel distributore. Ma non lo so fare di... Guarda nel distributore. Ah, ma nel distributore c'è. Eh, ma perché sbagli... Nel distributore dovevi mettere la lava. Ah. Sì, va bene, ma dove fanno? A parte che è poi fatta male. Va bene, ragazzi. Il tour è finito? Già. No, non c'è fatto... Oh, nel nether. Il tour è finito? No, il nether. Non mi intero... È finito il tour? No, no. Che devi fare? Cosa? Cosa c'è? Consistente il tour, però. Eh, cioè... No, non costruisco niente, mi scoccio. Non è una cultura. Che devo fare? Adesso la tradizione. No, mi scoccio. Quello è un altro video. Andiamo tutti nel nether, andiamo a crashare. Sì, nel nether. Andiamo nel nether, facciamo una cosa bella che adesso farò fare a Cristian. Oh, ok. Che... Boh, mi va di fartela fare. Ah, no. A me non mi va, ti butto a te, dammi. Ma è una cosa bellissima. Allora, mu che? Cristian, dormi sul letto. Chi è l'idiota che ci ha dormito? Io, ma... Cristian. No, ma che cosa? Chi è l'idiota che ha dormito sul letto? No. Cristian, dormi sul letto. No, no. Però lo fa... Cristian, non dormi. Ma lo sapevi questo fatto del letto, Cri? Io, sì. Poi? Dormi sul letto. Dietro. Dormi sul letto. Dormi. Dormi tu. Ti danno i diamanti. E' vero. C'è tre logistano. Guarda, io c'ho dormito. Io c'ho dormito, mo'. Stanno da fuori. Stanno da fuori. Stanno da fuori. Dormi. Veloce. No, dormi più anni. Dormi sul letto. Cristian, dormi sul letto. No, già dormi sul letto. Facciamo una letto matrimoniale e dormite tutte e due. No. Un letto di qua e un letto di là. Giorno, non mi voglio. Basta. Che sta diventando? Dormite. Sta diventando una scherza tua, te. Non me ne siete a dormire. Sì, dormi. Sì, dormi. Devi dormire, ok? No, fai dormi. Sì, dormi. Dormi. Sì, dormi. Sì, dormi. Però devi stare in su, va, almeno... Mi metti i comandi. No, no, oh, no, Giovanni. No, non ce ne possiamo andare. Ok? Devi scrivere un portale. Di fatto, aspetta, no. Accendi, non voglio, non voglio dire. Non fatti un portale. Aspetta, com'è che ti chiami? The Prince 2? No, no, oh, bravo. Ti ha portato, papo. Non l'ho teleportato, guarda, nesta parte. No, bravo, ti ha ammasso. No, no, oh. Si fa così, giusto? Dovrebbe essere... Dovrebbe essere variando. Dovrebbe essere tipo... No, aspetta, forse senza chiocciolo, no? Ma stanno facendo i comandi. No, non c'è nulla, no, no. Dove essere io a quando. Ha il taggisidora al tassino. Mi metti che posso fare i comandi? Ma ragazzi, mettete sotto nel commento. Aspetta. No, io uccideremo. Ma adesso voglio essere grande. Si, cose che ti dà. Ma dove stai? Scusami, così. Devo non riassi. Ma dove stai? Ma mi hanno dato una palestra. Ma dove stai? Ma dai. Ma chi stai uccidendo? Ma chi stai uccidendo? Ma chi stai uccidendo? Chissà, com'era un calore? Erano tipo... Erano tipo... Maiali? Ah, perché erano delle... Perché giganti? Chissà, sono questi? Sono questi? No, non penso. No. Se stanno insubbando, non uccidere mai questo se stanno insubbando. Lui penso che lo sa perché... No, non sai. Eccolo! Non li uccidere, fammi vedere! Sì, è il piglin. Ragazzi, allora, che succede se si scava sotto? Aspetta, facciamo una cosa. Ma io mi sono scocciata. Io devo staccare il video però, raga. È finita l'esplorazione. Ragazzi, attivate la campanella ed iscrivetevi perché la maggior parte delle persone che guardano i video non sono iscritti. E soprattutto, una cosa molto interessante, mettetevi la sveglia per venerdì che escerà un nuovo video della Disaccord Craft. E la Disaccord Craft è una serie molto bella. Aspetta, 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 aspetta. Ok? Ragazzi, alla prossima. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao! Ciao!